Venezia 1677, una bambina appena nata viene abbandonata. E' la storia di Lucietta, Lucietta della Pietà, Lucietta organista. Questa bambina viene educata nella musica, alla Pietà che è l'istituto che si occupa appunto dell'infanzia abbandonata e ha la fortuna la nostra Lucietta di incontrarsi non una ma più volte con don Antonio Vivaldi che è l'insegnante di musica di questo istituto. La vita da reclusa, la vita da quasi monaca di questa fanciulla che poi cresce diventa scrivana, diventa priora e ha la sventura di diventare cieca. Ebbene, tante sventure e gioie in una vita dimenticata che ho voluto narrare basandomi sui documenti dell'epoca e era necessario farlo perché la storia della musica barocca è fatta anche di queste persone, è giusto rendere loro merito e tornare a farle vivere, quindi ricucire il filo che si era spezzato della loro memoria. Buona lettura con Lucietta.